Gli errori giudiziari possono segnare la vita di ognuno di noi. La mala giustizia è stato il tema principale dell'incontro al Circolo Artistico di Arezzo. Saranno gli ultimi una serie infinita di errori giudiziari da Giovannino Guareschi a Enzo Tortora. Il dibattito ha visto la partecipazione del professor avvocato Ubaldo Giuliani Balestrino e della senatrice Francesca Scopelliti, la storica compagna di Enzo Tortora, che hanno presentato rispettivamente i volumi Guareschi era innocente eccole prove e lettera a Francesca. A coordinare l'incontro il presidente dell'Unione delle Camere Penali e l'avvocato Beniamino Migliucci con l'introduzione di Raffaello Giorgetti. Non avrei mai creduto esistesse un universo così straziante, vile, ingiusto, sotto la crosta di un'italietta che non sa, non ci pensa, non vuol sapere. Ma ora, frustato a sangue da questa realtà, il mio compito è uno, far sapere e non gridare solo la mia innocenza, ma battermi perché queste inciviltà procedurali, questi processi che onorano per paradosso il fascismo, vengano a cessare perché un uomo sia rispettato, sentito, prima di essere ammanettato come un animale e gettato in carcere su dell'azione di pazzi criminali. Io avrei voluto che questa battaglia la continuasse Enzo e forse con lui avremmo avuto un altro risultato, ma con le mie poche forze sono andata avanti e questo diventa uno strumento per me preziosissimo, per me, per gli avvocati, ma per tutti, perché sono le parole di Enzo, sono parole di grave denuncia e queste voglio sperare che al di là degli operatori del diritto, degli addetti ai lavori, voglio sperare che queste parole coinvolgano anche tutti noi, perché forse noi ci affidiamo un po' troppo agli altri e non riusciamo a fare nostro, come dire, una rivincita, un desiderio di sfida, di battaglia, che sia di tutti noi, perché poi alla fine, come diceva Enzo, parlare di giustizia è come chiedere l'acqua potabile e l'aria respirabile e questa è una battaglia che naturalmente dobbiamo fare per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, insomma, per il futuro del nostro Paese.